Il 9, 10 e 11 giugno torna a Portoferraio il mercato europeo, un appuntamento atteso da Albani ed ospiti che da 17 anni si tiene all'Elba nel mese di giugno. Sono 61 i banchi presenti con alcune novità, come ci annuncia Roberto Olivari di Confcommercio Elba. Oramai c'è una tradizione, è consolidato questo appuntamento. Le novità che avevamo già messo in programma era che fosse articolato un po' su diverse sfaccettature nelle presenze dei banchi e che ci fosse qualche novità. Ora, nello specifico però, ci saranno delle particolarità che non si erano presentate solitamente negli scorsi anni, quando in gran parte, maggioritaria, veniva esercitata dai banchi dell'alimentazione, del food. Ci saranno delle cose particolari, nuove, abbiamo avuto richieste dirette noi, perché come sapete questa organizzazione parte da Roma, parte la federazione degli ambulanti che ha sede a Roma e da quale luogo ne provengono una certa quantità importante. Poi, naturalmente, noi facciamo capo a Livorno, che diventa, voglio dire, con noi organizzato la cosa. Siamo onorati e contenti di potersi essere per la prima volta in questa circostanza, anche se mettere in piedi la cosa non è così semplice e scontato. Ci auguriamo comunque che abbia il successo meritato. Quest'anno saranno 61 e daremo il via a questa manifestazione con una inaugurazione venerdì 9 alle ore 12 che da quel momento sarà ufficializzato, voglio dire, l'apertura del servizio che offre naturalmente il mercatino.